Un viaggio padre figlio, un fine settimana trascorso tra piste da sci e baite a Cortina, così Flavio e Nathan Falco Breatore stanno trascorrendo questo primo fine settimana di febbraio. Ma Elisabetta non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di dimostrare il suo amore al figlio e anche al suo ex marito e così sotto alla foto che Breatore ha pubblicato. Insieme a Nathan ecco che pronta ma Elisabetta non poteva lasciare. La mamma orgogliosa ha pubblicato due emoti con rappresentanti due faccine con. La mamma orgogliosa ha pubblicato due emoti con rappresentanti due faccine con. Tra la conduttrice e l'imprenditore c'è un ottimo rapporto. Infatti hanno trascorso il Natale e i premi giorni del 2024 insieme in Kenya proprio come se i due non si fossero mai lasciati.